La presentazione di Intel con Nicola Procaccio che è il direttore marketing e comunicazione di Intel. Allora, senti, oggi avete presentato il Core M, che cos'è? Beh, il Core M è un processore importante perché è il primo processore basato su quello che noi chiamiamo il processo produttivo a 14 nanometri, cioè processori sempre più piccoli che sono capaci di stare in dispositivi mobili sempre più piccoli, sempre più sottili, sempre più eleganti. E adesso che hai detto la cosa tecnica, che i nanometri o i nanometri, uno pensa che sia il rubinetto per aprire l'acqua, spiega invece al consumatore perché ha senso comprare un prodotto con dentro il Core M, cioè che vantaggio ha? Beh, perché sicuramente immagino che se tu compri un computer portatile vuoi stare in mobilità il più tempo possibile. Grazie a questo processore che ti fa durare la batteria 9 ore, hai un'autonomia che ti permette di stare a divertirti al lavoro per tutta la giornata. Le risoluzioni grafiche sono eccellenti e fanno divertire te per il tuo lavoro che i tuoi panovini o la tua famiglia e soprattutto è particolarmente sicuro e quindi riesci a metterci dentro tutto ciò che per te è importante perché ormai in questi affari noi ci mettiamo tutto ciò che per te è importante. Quindi la batteria non si ferma dopo due ore? Assolutamente, puoi provarlo. Ed è anche sottile. È anche sottile, anzi sono dei requisiti imprescindibili che noi abbiamo imposto ai produttori. Senti, e quindi non mi scotta neanche come ad esempio in spiaggia quando mi metto il portatile sulle gambe che poi dopo un po' bolle devo smettere di usarlo. E non solo non ti scotti, non ti scotti perché grazie al Corem questi prodotti non hanno neanche la ventola di raffreddamento, ma ciò nonostante non ti scotterai. Ah bene, interessante. Senti, e quando è che li troviamo nei negozi? Beh, ce ne sono già a partire da holiday, quindi dal periodo natalizio ce ne saranno almeno 7 modelli messi sul mercato dei nostri produttori. A inizio anno nuovo li avremo in maggior numero. Ok, perfetto, e quindi ci si trova, ci si rivede online o sui siti di e-commerce. Grazie, grazie. E qui da Intel sempre senza timore. Ciao a tutti, grazie.